Bene, sia Vito Incantalupo che la 4x400 azzurra e soprattutto missione compiuta. La staffetta del miglio italiana vola in finale ai campionati europei Under-23 su pista in corso di svolgimento a Tampere in Finlandia con il miglior tempo delle batterie. Ha corso in prima frazione e ha fatto il suo dovere il quattrocentista barlettano dell'Enterprise Sport & Service di Benevento che sulla pista del Puttilli si allena con il professor Francesco Montenero, poi i suoi compagni di squadra Lorenzo Valentini, Marco Lorenzi e Michele Tritta, quest'ultimo autore di un convincente rettilineo finale, hanno completato l'opera. L'Italia ha vinto la seconda batteria con il tempo di 3 minuti 06,98 precedendo Belgio, Germania, Spagna e Olanda, tutte racchiuse in pochi centesimi. Buona la prima dunque per Incantalupo e gli azzurri che accedono con merito e con sensazioni incoraggianti alla gara per le medaglie in programma domani. Puntare a qualcosa di importante è più che lecito per una staffetta composta da atleti, Vito e Incantalupo compreso, che hanno già vinto il titolo europeo tra gli Uniones nel 2011 a Tallinn in Estonia e hanno partecipato alla finale nel 2012 ai mondiali di Barcellona. Cambia la categoria, si passa agli under 23 e maglie azzurri ci sono sempre e vogliono essere nuovamente protagonisti. Hanno le carte in regola per farlo. Appuntamento a domani sera dunque. Start alle ore 17.55 ore italiane. Con gli azzurri in pista nell'ultima gara del programma ci saranno Olanda, Spagna, Belgio, Ucraina, Russia, Repubblica Ceca e Germania. Tornare con una medaglia al collo intanto non è impresa impossibile. Quella di Vito Incantalupo tra l'altro sarebbe la seconda per la Puglia dopo il bronzo di Antonella Palmisano di Motola nella 20 chilometri di marcia femminile. Si è fermato a primo turno dei 400 metri ostacoli invece l'avventura della biscegliese Eusebio Aliti. L'atleta allenato da Tonino Ferro proverà a riscattarsi già a fine mese ai campionati italiani assoluti di atletica leggera che si correranno all'Arena di Milano.